...scienti che fanno atletica e ginnastica. Iniziamo i corsi al lunedì, mettiamo il sabato pomeriggio, perché ormai questo è il ritmo. Abbiamo deciso di dare un'aria nuova, un'aria rinnovata e carica di energia, per cui la simbiosi con Enerxenia è venuta abbastanza naturale. Il nostro slogan è per un'attività pulita e per uno sport pulito, carico di energia e partiamo con questo entusiasmo. Cosa prevede la nostra simbiosi? Un trofeo di atletica che si svolgerà a metà maggio, esattamente il 18 al Campoconi, dove ci saranno circa 500 ragazzi dell'età scolare prima media e faranno una serie di garette di atletica leggera. Garette di atletica leggera si intende 70 metri, 60 statoli, salto in alto, lungo il lancio del Vortex e il peso per 2 kg. Premiazione per i primi sei classificati e tutti avranno una splendida maglietta con Enerxenia a 5 metri per uno sport pulito, di modo che si ricordano perché sono stati lì. Che altro dire? società nuova, giovane, ricca di entusiasmo, con molte attività, con molte intenzioni, con molte cose da fare e sport soprattutto da svolgere. A parte mia c'è una cosa brevissima che vorrei dire. Sapete che noi siamo l'azienda di questo territorio. Non è un caso che abbiamo scelto di sostenere atletica e ginnastica comunale, perché la stragrande maggioranza dei nostri clienti sono le famiglie del nostro territorio. Il lavoro che le società sportive, direttantistiche, e in particolare questa, svolge come affiancamento, sostegno delle famiglie, è un lavoro, è un ruolo cruciale, specie nei tempi che stiamo vivendo. Quindi la nostra vicinanza è duplice, è una vicinanza al territorio di appartenenza dell'azienda e al mondo dello sport dedicato alle famiglie che svolge un ruolo fondamentale. Assolutamente. E che bene sia sostenuto anche in momenti nei quali le risorse scarseggiano. E quindi con le nostre possibilità stiamo a fianco dei tentativi di ginnastica commense perché ci crediamo.